E' ripartita in questi giorni la Ludoteca Cittadina a Piazza Miracoli 37, uno spazio colorato e pieno di giochi per tutti i bambini della nostra città, con attività completamente gratuite a disposizione di tutti. Potete partecipare se siete con gruppi parrocchiari, educative territoriali, centri diurni o bambini che vogliono aderire semplicemente alle nostre attività. Non solo, la Ludoteca Cittadina lavorerà anche nelle municipalità di Napoli, promuovendo giochi a tutti i bambini nei vari quartieri. Potete prenotarvi in maniera completamente gratuita non solo sul sito del Comune di Napoli, ma al numero che vedete attraverso WhatsApp. Mi raccomando, vi aspettiamo per giocare tutti insieme. Ciao!